Musica Testa coda in terza Montegiordano Virtus Cisterna e il match che chiude febbraio con la giornata 17 Che sia un numero porta sfortuna o da buoni auspici, i due coach vogliono scoprirlo subito E suona la carica arena, sul cross di Doneddu, stoppa a seguire e spara sopra l'incrocio E poi ancora lui, splendida apertura alla Totti per Candy che entra in aria, resiste al tackle e trova l'angolino 1-0 Montegiordano, suona il tir Candy che la mette in discesa sfruttando la genialata di arena E poi dopo il piazzato velenoso di Ascione su cui vola Colozza a toglierla dall'incrocio, lo stesso Candy si tramuta in assist man Palla splendida in profondità su un movimento di salvia, controllo di sete e rasoterra ghiotto per arena Che con fame Leonina non fallisce e gonfia la rete 2-0 Montegiordano, confezionato da un trisdassi con arena festeggiato sulla bandierina e batticuore verso i fan Al venticinquesimo Mastrangeli si addormenta, errore gravissimo, Proietti ne approfitta e calcia Bartoletti tempestivo chiude, ma è già tempo di un altro ruggito Traversone invitante per Roberto Arena che graffia e griffa da centravanti vero il 3-0 Doppietto e gol 248 per i Bombe ed è assoluto protagonista Allo scadere protegge palla e va in progressione e poi di scavetto aperto per Candy che riceve in aria e punta Si libera per il sinistro rimpallato e tutto solo salvia, bomba incrociare, stupenda! Si infila sotto il sete il poker del Montegiordano, abbracci e felicità E nel secondo tempo calo di concentrazione, su rimessa Rosella sfugge a Scorsino in posizione da ultimo uomo Si invola in aria e col sinistro mira il palo opposto per schizzarla in rete e 4-1 con Rosella Bella rete della bandiera del Cisterna, prima che il monologo riprenda Sontuoso salvia, petto e sombrero d'esterno, si autolancia e si decentra e poi cali per un destro da biliardo mirabile A fil di palo è uno gol di salvia ed è cinquina Montegiordano C'è solo una squadra in campo, ci prova anche Boluc, bomba siderale, illusione del gol Sul rimessa laterale poi, chance anche per Spacca che si incrocia con Candy Ma la star di Tordecencia è in offside e il gol del 14 arriva in fuorigioco Ma ancora Candy ispira il sesto, rovesciata acrobatica, ne approfitta allora il volo sgriccia chirurgico Tra una selva di gambe, palo e rete 6-1, gol d'autore anche per sgriccia, che cala il sipario sul match Ed è vittoria il roboante per la truppa Caporaletti Che si rilancia alla grande lassù in cima Grazie